Oggi ci troviamo in sala giunta perché ci sono l'evento di concerti estivi e abbiamo il promoter Silvio Petitto che ci illustra esattamente le novità di quest'anno. Buongiorno Silvio. Buongiorno, le novità, diciamo la continuità, noi fa molto piacere che ormai è da oltre due decenni che è bene o male tranne qualche intervallo veniamo qui a Vigevono a fare la stagione estiva. Come l'anno scorso, tenendo presente che c'è sempre qualche problemino, ripetersi anche quest'anno faremo una stagione con artisti importanti. Che partirà da luglio? Da luglio, il primo spettacolo è previsto l'11 di luglio e poi vi dico è un work in progress perché oggi diremo i primi quattro artisti però sono già in preventivo altre situazioni tra cui anche con delle collaborazioni con associazioni locali. Quindi è una cosa che vogliamo, ci fa particolarmente piacere perché coinvolgerà alcune situazioni locali che sono particolarmente importanti. Ci può già anticipare qualche cantante, qualche gruppo? Diciamo che i primi quattro sono Mondo Marcio che è un rapper molto importante che in questi giorni è presente nelle radio con un duetto fantastico con Mina, Ine Grita, La Mannoia e Simone Cristicchi. Io credo che sono tutti nomi che sono particolarmente... Avete spaziato un po' da un pubblico medio alto per i giovani? Sì, sì, come anche l'anno scorso, come gli altri anni, cerchiamo di variare un po' il pubblico perché secondo noi è giusto non fare... ci sono anche rassegne monotematiche però noi siamo abituati a fare invece delle manifestazioni che spaziano un po' con diversi tipi di generi e anche di pubblico quindi. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Assessore alle attività culturali Riccardo Ghia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Partiamo allora quindi con la presentazione alla stampa di quello che saranno gli eventi estivi in Castello per quest'estate del mese di luglio. Come da quando è il mio mandato praticamente ho costituito questa importante iniziativa che sta, secondo me, percorrendo un bellissimo percorso e di successo, ringraziando ovviamente gli organizzatori che sono poi dietro le quinte, che chi lavora per prepararvi quella che sarà per me una magnifica estate. E quindi avremo quattro grandi bei appuntamenti e poi un work in progress, quindi altre iniziative sicuramente. Grazie Assessore, grazie mille. Grazie a voi.